Siamo allo stand JVC dove c'è un nuovo modello di videocamera che come si può vedere da questo schema è una videocamera che è in grado di connettersi alle reti wifi. Cosa serve avere una videocamera connessa a wifi? Serve perché a sua volta può essere controllata da altri device come per esempio smartphone o un tablet e quindi si può per esempio gestire lo zoom, la registrazione, farlo partire, può servire oltre che per un controllo remoto quando la videocamera magari su un treppiede o una posizione particolare anche per il monitoraggio dei bambini o di altre situazioni, stanze lontane purché ovviamente a portata di wifi.